Sono proprio come gli Oscar. Si consegnano nello stesso teatro degli Oscar, ma restano fuori dalla cerimonia degli Oscar. La quinta edizione dei Governors Awards ha visto Hollywood celebrare sabato scorso alcune delle sue scintillanti stelle. Angelina Jolie è stata premiata per il suo impegno umanitario all'interno dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite. Amore mio, il tuo sostegno e la tua guida rendono possibile ciò che faccio. Figlio mio, non ho intenzione di piangere, lo prometto. Non voglio metterti in imbarazzo. Tu e i tuoi fratelli e le tue sorelle siete la mia felicità. Sono onorata di essere qui stasera, fra tanti artisti straordinari. Mia madre amava l'arte, amava il cinema, mi ha appoggiata in qualsiasi cosa pazzesca abbia fatto. Ogni volta che ce n'era bisogno mi diceva questo è lo scopo dei film. Gli altri premi sono stati assegnati alla carriera. Il primo a Steve Martin, accolto con la consueta verve che ha contraddistinto l'intera carriera dell'attore, interprete tra gli altri di un moderno Cyrano in Roxanne. Signore e signori, da tempo sognavo di ricevere un Oscar alla carriera. Sento che oggi sono più vicino a realizzare questo sogno. Una vera leggenda, la ex signora in giallo Angela Lansbury dal palco ha detto che dividere la cerimonia dei Governors Awards con la famiglia è stato molto meglio dei brividi di speranza vissuti durante le tre nomination all'Oscar, nessuna delle quali portò a una statuetta. Gloria anche per l'Italia con il premio al costumista Piero Tosi, che però ha disertato la cerimonia a 86 anni e dopo 5 nomination e nessuna vittoria. A ritirare la statuetta è stata Claudia Cardinale da lui vestita in sette film.